Vanda Nara, opinionista alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, è tra i personaggi più seguiti del momento. Gli scatti provocanti, puntualmente condivisi sui social della signora Icardi, che la ritraggono praticamente nuda su un letto hanno appena finito di fare il giro del web che si torna a parlare di lei. Stavolta, però, nessun nudo all'orizzonte. Vanda Nara è incinta. Vanda Nara ed il misterioso post su IG nelle ultime ore tra i fans di Vanda Nara si è scatenata una vera e propria bufera. Dopo la pubblicazione di una foto con l'immagine di un neonato e la scritta It's a Boy, infatti, si sono tutti chiesti se la donna fosse nuovamente incinta. Il dilemma, però, è durato davvero poco dal momento che osservando bene il post in questione ci si poteva già fare un'idea di quanto in realtà sta avvenendo nella vita della signora Icardi. Continua dopo la foto, un chiaro messaggio di felicitazioni in cui Vanda Nara si congratula con la sorella che presto, a quanto pare, le darà un tanto desiderato nipotino. Ad essere incinta, dunque, non è Vanda ma la sorella. La signora Icardi, già madre cinque volte vale la pena ricordare il motivo per cui la notizia di una presunta nuova gravidanza per Vanda Nara abbia fatto sognalzare tutti i suoi fans. La ragazza, infatti, ad appena 33 anni ha già ben cinque figli. Di questi, tre sono nati dal matrimonio con l'ex marito Mazzi Lopez, che pare aver tradito la moglie in costanza di matrimonio con Elisa De Panicis, e due sono, invece, nati dal rapporto con l'attuale marito Mauro Icardi. Non è dato sapere se quando i fans della coppia potranno festeggiare il sesto figlio in arrivo. Per il momento, però, una nuova maternità non sembra essere tra le priorità di Vanda Nara e, molto probabilmente, non lo è nemmeno per il marito attualmente impegnato nel campionato di calcio francese con il Paris Saint-Germain.